Questo programma è offerto da Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione sempre. Ekeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.ekeo.it Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. Amici sportivi di GoTV, benvenuti e ben ritrovati sul canale 63 per un altro appuntamento di GoFantaBall. Oggi non sono da sola, sono in compagnia di un super ospite, Federico Draghetti, admin della pagina Instagram Consigli e Fantacalcio Official. Ciao Federico. Ciao Rachele, grazie per l'invito. Un saluto a tutti i telespettatori. Adesso andiamo ad analizzare insieme quanto è successo nella 33esima giornata e soprattutto quello che ci aspetta per la 34esima. Partiamo appunto dalla 33esima. Inter e Milan vincono negli anticipi di venerdì, rispettivamente nelle gare contro lo Spezia e contro il Genoa, mentre frena in Napoli, che pareggia contro la Roma 1-1 e dunque lancia le due milanesi per la lotta a Scudetto. Sei d'accordo? Rimangono solo Inter e Milan? Assolutamente. Si è tolta prima la Juventus, poi adesso si toglie anche il Napoli, anche se non matematicamente, però diciamo che anche psicologicamente questo campionato si deciderà in queste ultime partite. Il Napoli ha fatto una grossa frenata contro la Roma, in grande forma, e penso che rimangano soltanto le due milanesi adesso a lottare per lo Scudetto. Il secondo Tecchia è favorito perché l'Inter ha forse sulla carta il calendario più semplice, però ricordiamo che ha due impegni in più rispetto al Milan, perché c'è prima la gara da recuperare con il Bologna e poi c'è la finale di Coppa Italia l'11 maggio. Sì, per me l'Inter al momento può considerarsi favorita, soprattutto dal punto di vista psicologico, considerando il fatto che ha vinto proprio in Coppa Italia, proprio contro il Milan diretta rivale per lo Scudetto, psicologicamente sarà avvantaggiata, a parer mio. Le partite poi che l'attendono sul calendario sono semplici rispetto magari al Milan, quindi penso che abbia magari una marcia in più anche a livello di Rosa, mentalmente soprattutto, per vincere questo Scudetto. La partita contro la Juventus è stata la partita chiave per l'Inter, perché non era in un periodo di forma, sette punti in sette partite. Credi che sia stata quella partita a rimettere l'Inter in gioco? Penso proprio di sì. Secondo me a volte nel calcio ci vogliono quegli sblocchi mentali che poi ti fanno credere di più in te stesso e far avanzare la stagione come si deve. L'Inter le potenzialità ce l'ha, ha la Rosa probabilmente migliore del campionato, quindi vincere contro una diretta rivale in quel momento come la Juventus può aver dato una grande spinta ai Nerazzurri. Abbiamo tolto il Napoli dalla corsa Scudetto. Secondo te riuscirà a mantenere il terzo posto oppure no? Oppure ci sarà un'altra squadra ad arrivare terza? Diciamo che alla fine sarà una lotta per la Champions, tra Napoli e Juventus, sì, lotteranno secondo me loro due, il terzo e il quarto posto. Secondo me non mollerà completamente, non tirerà i remi in barca al Napoli, vorrà comunque fare una degna conclusione di un bel campionato giocato, non mantenuto sempre su altissimi livelli, però penso che possa continuare a mantenere un buon livello come ha spesso dimostrato quest'anno. Quindi non vedi la Roma un pericolo per Napoli e Juventus per quanto riguarda la zona Champions? Perché la Roma sta passando un ottimo periodo di forma. Assolutamente, il periodo come abbiamo detto prima, come hai detto tu adesso, è ottimo. Ottimo il lavoro di Murigno che ha saputo dare sempre di più la sua impronta a questa squadra. Ovviamente dal punto di vista della classifica può essere un pericolo per la zona Champions, soprattutto per la Juventus, ma penso che alla fine riusciranno a cavarsela sia Napoli che Juventus per conquistare per l'appunto terzo e quarto posto. Perfetto Federico, abbiamo parlato di primo, secondo, terzo o quarto posto, però non abbiamo parlato della zona retrocessione perché si inizia a complicare la situazione per le squadre che si trovano nella parte bassa della classifica. C'è la Sampedoria che si trova a 29 punti, a seguire il Cagliari a 28 punti, poi ci sono Venezia e Genoa a 22 punti con il Venezia che però ha una gara in meno e poi c'è la Salernitana che ha due gare da recuperare e che con la vittoria contro la Samp si porta da 16 a 19 punti. Secondo te? Chi rimane in Serie A e chi scende? Nonostante l'ultima vittoria della Salernitana, parto dall'ultima, nonostante la buona vittoria della Salernitana nella sua ultima uscita e il fatto che gli manchino ancora due partite da giocare, molti magari potranno pensare che possa essere anche una motivazione in più per provare un'eroica salvezza guidata da Nicola, come fece ai tempi del Crotone, però penso che anche a livello tecnico di squadra, di organico in generale, sia la squadra più vicina alla Serie B in questo momento, così come il Venezia. Venezia, come hai detto tu, 22 punti, così come il Genoa, però dal Genoa vedo un'impronta diversa. Blessing, nonostante abbia comunque perso qualche partita dopo la grande striscia di pareggi, ha dato comunque un'impronta diversa, secondo me la squadra ha un'impronta sua, ha dato il suo stile di gioco, molto difensivo, solido, quindi sarà secondo me una bella lotta tra Cagliari e Genoa per provare a restare in Serie A. Perfetto, abbiamo parlato di 33esima giornata, però io voglio proiettarmi a quella che sarà la 34esima giornata. Manca veramente poco al termine del campionato, solo 5 partite, se non consideriamo ovviamente il match da recuperare. Allora, insieme a Federico vorrei andare a fare un'analisi dei giocatori che ci conviene schierare e invece giocatori che ci conviene lasciare in panchina per le nostre prossime giornate di fantacalcio. Quindi, gli up e i down, ok? Allora, iniziamo subito dagli up che hai selezionato insieme al tuo team della tua pagina Instagram, partirei dall'attaccante del Bologna, Marco Arnautovic. Assolutamente, Arnautovic è in un buon periodo, assolutamente, si è preso sulle spalle il Bologna, la prossima giornata non la giocherà, però è comunque un attaccante su cui il Bologna fa grandissimo affidamento. Lo stesso Mijajlovic, nonostante al momento non possa guidare fisicamente la squadra, crede tanto in lui, quindi penso che si sia sbloccato anche mentalmente, ha da giocare anche la partita proprio contro l'Inter in recupero, sua ex squadra, chissà che non possa anche lì segnare un gol dell'ex. In ogni caso comunque vedo un attaccante che finalmente ha trovato la sua dimensione. E poi passiamo all'udinese, Deulofeu. Esatto, Deulofeu che viene da due doppiette clamorose, un attaccante secondo me che ha maggior ragione adesso senza Beto per il suo infortunio, che per il suo infortunio non ci sarà, si deve prendere lui sulle spalle la squadra, rigorista, trascinatore, insomma se non c'è per Eda ovviamente rigorista. Comunque penso che possa essere anche lui, anche a livello di calendario, come vediamo anche qui in grafica, avrà comunque Bologna, Sassuolo, Salernitana, anche lo stesso Spezia, insomma squadre che concedono. Penso che possa essere una buona scelta anche puntare su di lui per questo finale. Tra l'altro se non erro, l'udinese è l'unica squadra insieme a Inter e Fiorentina ad aver collezionato già tre vittorie di fila in questo 2022. Esatto. Quindi insomma un periodo di forma strepitoso. In forma anche un altro giocatore che è Icone, un giocatore dal talento indiscusso, non era ancora riuscito a sbloccarsi, poi due giornate fa è andato in gol, quindi è un altro dei nostri up. Esattamente, questo è un giocatore che mi piace tanto, proprio come hai detto tu, a livello tecnico, deve ambientarsi, deve ancora trovare il pieno ambientamento alla Fiorentina e nel calcio italiano, ma pian piano si sta rodando. La scorsa giornata ha preso un palo bellissimo, ha sfiorato un gol molto bello, si è già sbloccato nella nostra Serie A. Come vediamo anche qui dal calendario ci saranno partite favorevoli, alcune un po' meno, però abbiamo visto che la Fiorentina in attacco non delude, difficilmente delude, quindi anche contro il Milan, la Roma, che possono concedere qualcosina dietro, può fare bene la fantasia di Icone. La può raggiungere l'Europa questa Fiorentina? Secondo me non si deve precludere nessun obiettivo, insomma, deve sognare in grande perché le potenzialità ce li ha, l'allenatore è un allenatore con idee chiare, quindi penso che possa puntare in alto. Perfetto, tre giocatori da schierare assolutamente e tre giocatori da lasciare in panchina. Partiamo da un nome insolito, Berardi. Perché questa scelta, Federico? Ci mettiamo una piccola postilla su Berardi, magari non da lasciare sempre in panchina, ma da fidarsi un po' meno rispetto all'inizio di stagione, o comunque fino a tutta la stagione che ha dimostrato di essere un top player al fantacalcio quest'anno. Come vediamo avrà partite non semplici, Juventus, Napoli, Milan. Insomma, sono partite che il Sassuolo può soffrire e a differenza della Fiorentina, a volte pecca un pochino in attacco, soprattutto in quest'ultimo periodo dove arriva da qualche sconfitta. Insomma, lo stesso Berardi poi, voglio fare una piccola parentesi, è uno dei pochi giocatori della nazionale che è tornato dalla grande debacle europea, che non ci ha permesso di andare ai mondiali, ne ha risentito tanto. Secondo me mentalmente ne ha risentito, le sue prestazioni sono inevitabilmente calate, quindi magari qualcosina in meno, fidarsi un po' meno di Berardi, preferire magari qualche scommessina in più a volte. Poi l'attaccante della Lazio, Pedro. Esatto, Pedro per un motivo essenzialmente diverso. È un giocatore che la sua età ce l'ha, qualche infortuno di troppo in questo momento lo sta destabilizzando, ma anche a livello tattico Sarri preferisce spesso e volentieri Zaccagni e Felipe Anderson, sono quindi qualche panchina di troppo. A inizio stagione era uno dei titolari, adesso non è più un titolare inamovibile. Avrà sicuramente partite più semplici rispetto ai giocatori di prima, però io penso che proprio a livello di organico sia calato di un gradino, insomma. Si è finito un po' dietro nelle gerarchie. Per concludere i nostri tre giocatori da non schierare o di cui fidarsi poco, Bairami. Esatto, Bairami penso che sia il nome un pochino più scontato tra questi tre. L'Empoli è in un periodo non per niente buono, come vediamo anche dalle ultime partite disputate, tanti pareggi, sconfitte, non arriva la vittoria davvero da tante partite. Il calendario ancora di più può mettere in difficoltà l'Empoli. Napoli, Inter, Atalanta, anche lo stesso Torino che difensivamente è roccioso e concede veramente poco. Penso che l'Empoli abbia poche occasioni per segnare e anche lo stesso Bairami potrebbe risentirne. Adesso ne andiamo un attimo in pubblicità, ci ritroviamo fra poco, analizziamo la 34esima giornata e poi ovviamente la nostra top 11. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.a. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici. Perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiave in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Nini Virta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metratura a Milano? E se intenzionato a venderlo, non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Ekeo Luxury Real Estate al sito www.ekeo.it Ekeo, professionisti al tuo servizio. Ricordi i nostri sapori. Conserviamo intatti i profumi e i valori della nostra terra, aggrappati alla nostra pelle. Chiediamo ai ricordi di consegnarci il ritmo della tradizione e la riscopriamo oggi, più viva che mai. Domeniche, passate in famiglia a raccontarci dei nostri sogni e progetti. Sì, momenti che restituiscono il sapore della nostra storia. La pasta di camerino, sapori da ricordare. Ed eccoci di nuovo negli studi di GoTV per parlare di calcio, fantacalcio. Adesso insieme a Federico andiamo ad analizzare nello specifico che cosa ci attende in questa 34esima giornata e per ogni partita andremo a scegliere un giocatore chiave e vi spiegheremo anche il perché. Federico, iniziamo subito dalla prima sfida che ci attende, quella fra Torino e Spezia. Esatto, Torino-Spezia, partita che il Torino può sfruttare bene. Non ha trovato sempre costanza quest'anno, però lo stile di gioco di Juric, la mano di Juric si vede. Quindi vedo favorito il Torino da quel punto di vista, nonostante lo Spezia debba ancora assicurarsi qualche punticino per la zona bassa della classifica. Puntiamo su un giocatore del Torino, offensivo, non ci sarà Belotti. Pellegrino mi ispira troppo perché nonostante l'ultimo gol non è un giocatore su cui far pieno affidamento, si può fare affidamento invece su Brecalo. Un po' di fantasia in più, magari non è un bomber d'area, ma uno che sa inventare, sa dribblare, prendere buoni voti e chissà magari sfornare qualche bonus. Qualche bonus a volte lo porta a Brecalo, un ottimo giocatore, veramente. Proseguiamo con la sfida fra Venezia e Atalanta, due squadre che non sono esattamente in forma. Non buon periodo per entrambe, l'Atalanta deve rialzare la testa assolutamente, dopo l'ultima sconfitta in casa contro il Verona deve trovare la quadra, lo stesso Gasperini ha detto che non è un periodo semplice. Puntiamo su un giocatore dell'Atalanta, puntiamo su un giocatore che è rientrato inaspettatamente prima, ovvero Duven Zapata, deve riaffidarsi anche alla sua fisicità, alla sua corsa. serve la sua potenza offensiva per provare a strappare qualche gol anche al Fanta Calcio. Poi abbiamo il primo match sull'asse Roma-Milano, quindi abbiamo la sfida tra Inter e Roma. Esatto, Inter-Roma che sarà una partita non scontata, un crocevia importante per i Nerazzurri che è uno degli ultimi tasselli da aggiungere per il sogno Scudetto. Puntiamo ovviamente su un giocatore dell'Inter, serve uno gol, serve una vittoria, serve Lautaro Martinez che dopo la doppietta in Coppa Italia sarà motivato, carico, quindi serve veramente Lautaro Martinez anche al Fanta Calcio. Roma che forse dovrà accontentarsi di una sconfitta questa volta. Chi sa, vedremo, parlerà il campo. Poi abbiamo la sfida tra Verona e Sampdoria. Esatto, Verona-Sampdoria, un Verona riduce da una bellissima vittoria contro l'Atalanta al Gevi Stadium, come dicevamo prima. Non ha portato Vanus Caprari, cosa un po' insolita, la sua prestazione è sempre stata ottima. Questa volta vogliamo puntarci contro una Sampdoria che è in grande difficoltà soprattutto a livello di classifica. Può andare in bonus di nuovo Caprari, il buon voto ce l'ha sempre, dribbling, i suoi numeri in campo li fa, serve anche la rete o l'assist. Puntiamo su di lui. E poi Salernitana-Fiorentina. Salernitana-Fiorentina, un'altra squadra in grande difficoltà come la Salernitana, difficile anche la sua permanenza in Serie A. Puntiamo su un giocatore della Fiorentina. Fiorentina in grande forma, una delle squadre più in forma del nostro campionato. E' in grande forma anche Iconé, che ha preso un palo la scorsa giornata sfiorando il gol. Questa giornata chissà che non possa portarci un bel bonus, magari non prendendo il palo come la scorsa giornata. E invece chi ci porterà bonus, secondo te, nella sfida tra Bologna e Udinese? Lo abbiamo nominato poco prima nei nostri up and down, era uno degli up, ovvero Gerard Deulofeu. Non c'è Beto, si deve caricare lui la squadra sulle spalle, servono i suoi gol. Bologna-Udinese, insomma, potrebbe essere una partita aperta. L'Udinese, stiamo vedendo che riesce a trovare il gol facilmente in queste ultime partite. Deulofeu può essere uno dei marcatori. Un altro match tra due squadre che devono rialzare la testa, ovvero Empoli-Napoli. Assolutamente, l'Empoli è in un periodo veramente difficile, soprattutto a livello offensivo. Possiamo vedere che sta segnando veramente poco. Non puntiamo sugli attaccanti dell'Empoli, quindi, perché davanti avrà una difesa veramente rocciosa come quella azzurra. Puntiamo su attaccanti del Napoli, nonostante la trasferta, ha segnato la scorsa giornata. Il sogno scudetto magari è destinato a rimanere per l'appunto un sogno, ma ciò non vuol dire che Lorenzo Insigne non possa continuare a far sognare i suoi tifosi con le sue prestazioni prima di salutarli e di andare al Toronto. Quindi puntiamo su Insigne, rigorista dei partenopei. Chi sogna di rimanere in Serie A sono Geno e Cagliari, che si andranno a sfidare in questa 34esima giornata. Chi può essere il giocatore chiave per questa sfida? Partiamo dal presupposto che vedo una partita accesa, sia dal punto di vista offensivo, ma anche dal punto di vista disciplinare. Potrebbero esserci cartellini, sarà una partita intensa proprio per il grande valore del match stesso, perché è uno scontro salvezza a tutti gli effetti. Puntiamo quindi sul rigorista, chissà che non possa esserci qualche fallo di troppo, qualche fallo proibito in area, perciò Joe Pedro del Cagliari, sappiamo che è un rigorista spesso infallibile, andiamo con l'itero brasiliano. E poi la seconda sfida è sull'asse Roma-Milano, perché prima abbiamo parlato di Inter-Roma, ma ci sarà anche Lazio-Milan. Lazio-Milan, partita che promette gol e spettacolo, rossoneri che devono ancora credere ovviamente nello scudetto, ma Lazio comunque in buon periodo, uno che non delude mai, è Ciro Immobile, sappiamo che su di lui possiamo fare sempre affidamento, rigori, non rigori, insomma è lui che trascina i bianco-celesti, il Milan è riduccio da una bella batosta in Coppa Italia contro l'Inter, potrà risentirne qualcosina difensivamente. Ciro Immobile è pronto ad approfittarne e a farci fare qualche gol, anche a noi al fantacalcio. E a chiudere la 34esima giornata Sassuolo-Juventus. Sassuolo-Juventus, anche questa partita non scontata, perché i bianconeri spesso hanno sofferto contro i nero-verdi a Reggio Emilia, un giocatore però che saluterà, la vecchia signora a fine stagione sarà Di Bala, rigorista della squadra, sappiamo che è stato un'icona per tutti i suoi anni bianco-nero, possiamo puntare ancora su di lui, vorrà lasciare le ultime gioie ai suoi tifosi prima di cambiare maglia, chissà quale. Vedremo, secondo te? Italia o estero? Penso estero. Bene, adesso è arrivato il nostro momento preferito, il momento preferito nostro e dei nostri telespettatori, sicuramente la nostra top 11, ovviamente come sempre io e Federico abbiamo scelto un 3-4-3 e vai Fede ti lascio la parola che abbiamo schierato. Vai, partiamo allora col portiere, un portiere che riduce da una grandissima prestazione a Bergamo la scorsa giornata, parliamo di Montipò, nonostante il gol subito ha sventato veramente tante occasioni da gol degli Orobici, quindi diciamo che possiamo puntare su di lui nella sfida contro la Samp, che dovrebbe essere sulla carta più agevole. Passiamo al terzetto difensivo? Esatto, passiamo al terzetto difensivo. Esatto, andiamo con Voivoda, esterno spesso molto offensivo del Torino, sfiderà lo Spezia che sappiamo che dietro può concedere tanto, quindi il suo carattere offensivo potrebbe portare qualche bonus ai Granata, quindi andiamo con Voivoda. Un difensore che è stato veramente una bella sorpresa di questa stagione è Ostigard del Genoa, sfiderà come abbiamo detto il Cagliari, servirà quindi una buona prestazione, ovviamente non è un giocatore da bonus, non è un giocatore che spinge tanti in avanti essendo un centrale, ma è un giocatore che può regalare buone prestazioni, magari un 6,5, utile per chi ha il modificatore di difesa. Ultimo difensore, un altro esterno, un esterno veloce, che la scorsa giornata ha sfornato un assist nonostante la sconfitta, è Zappacosta dell'Atalanta, avrà una sfida più agevole rispetto alla scorsa contro il Verona che si è rivelata molto ostica, quindi puntiamo ancora su Zappacosta e la sua velocità, potrebbe bruciare la fascia e regalare qualche bonus ai fantallinatori. Vedremo, vedremo, invece per il nostro centrocampo chi abbiamo? Allora, a centrocampo scegliamo un rigorista, partiamo da un rigorista, ovvero Orsolini del Bologna, giocherà contro l'Udinese, sarà una partita probabilmente aperta, vedo gol da una parte e dall'altra, Aldallara vorrà dimostrare di poter sfruttare la sua occasione essendo che non c'è Arnautovic, potrebbe affiancare lui Barro nella coppia offensiva, quindi Orsolini può essere una bella scommessa per questa giornata e anche una bella occasione per lui per fare bella figura. Ne abbiamo parlato prima invece di Icone, lo citiamo di nuovo anche nella nostra Top 11, può essere la sua occasione, è rinato o meglio, si sta rodando sempre di più nella nostra Serie A, sta trovando la quadra, scorsa giornata come abbiamo detto prima ha preso un palo, chissà che questa volta invece non possa gonfiare la rete. Un altro giocatore molto offensivo che gioca nel tridente d'attacco, questa volta della Lazio, non della Fiorentina, è Mattia Zaccagni, come abbiamo detto prima è lui il titolare per Sardi, non Pedro, quindi Mattia Zaccagni che non trova il gol, l'assist da un po' di partite potrebbe fare bene in questa partita contro il Milan, Milan in difficoltà soprattutto mentale dopo la sconfitta contro l'Inter in Coppa Italia. Ultimo giocatore, avrà una sfida non agevole sulla carta, ma sappiamo che le sue qualità quest'anno sono eccelse, sta veramente esplodendo, parliamo di Junior Traoré, del Sassuolo, a Reggio Emilia ci terrà a far fare bella figura alla sua squadra contro una Juventus che sappiamo non essere impeccabile difensivamente. Qual è il tridente offensivo che mettiamo sul campo Federico? Partiamo con un carroarmato dell'attacco, un attaccante che la scorsa giornata si è trovato davanti un monumentale Ceccherini, parliamo di Duvan Zapata, fondamentale il suo rientro nei Bergamaschi, servono i suoi gol, serve la sua potenza offensiva come dicevamo all'inizio, quindi contro il Venezia può essere la sua occasione per tornare in gol, tornare ad esultare sotto i suoi tifosi. Lo abbiamo citato prima, giocherà contro Lempoli questa giornata, Lorenzo Insigne è uno dei giocatori chiave citati da noi nelle nostre partite di Serie A di questa giornata, lo ricitiamo nella Top 11 perché merita, il Napoli nonostante lo scudetto lo veda sfumare sempre di più, ha bisogno comunque di un trascinatore come Lorenzo Insigne, il suo capitano, vorrà lasciare un bel ricordo ai tifosi partenopei prima di partire in direzione di Toronto, quindi è lui il nostro secondo attaccante della Top 11. Completiamo il tridente con Paolo Di Bala, citato poco fa come giocatore chiave di Sassuolo Juventus, lo vogliamo rinominare nella nostra Top 11 anche per la questione rigori perché sappiamo che avere un rigorista in squadra al fantacalcio è spesso importante, quindi puntiamo anche sull'argentino, anche lui in partenza a fine stagione. Perfetto, speriamo che la nostra Top 11 sia di gradimento e di aiuto ai nostri telespettatori. Prima di lasciarti Federico vorrei invitare i nostri telespettatori ad andare sulla pagina Instagram consigli fantacalcio official perché i ragazzi della pagina hanno veramente dei contenuti originali e straordinari. Io Federico ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia. Grazie a te Rachiele per l'invito, un saluto a tutti i telespettatori. Ci vedremo sicuramente prossimamente, sempre negli studi di GoTV per commentare un'altra fantastica giornata di fantacalcio e di serie A insieme. Io saluto anche i nostri telespettatori e vi do appuntamento alla prossima settimana. Questo programma è offerto da Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it Triform, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. La pasta di camerino, sapori da ricordare.